Barotelli in posizione di alla destra, tanto movimento di Barotelli, probabilmente dentro Montolivo e poi 1-0 di Romigno, Romigno 1-0 a 7 minuti e 40 secondi per i gol di Romigno Romigno, gli applausi sono tutti per lui, prova a liberarsi, sinistro sul fondo di Romigno a un passo dalla doppietta Balla in mezzo, Barotelli e poi Mexes, facile, facile per Mexes, 2-0 sulla respinta di Agazzi Attacca il Cagliari con il Saurma, liberarsi, splendido gol, il Cagliari accorcia le distanze e torna in partita, un gran gol di Marco Sau che segna il 2-1 parte Barotelli, fuori davvero di un soffio, il tiro di Mario Barotelli la possibilità per Cabrera, adesso per Pinia, il tacco per Nangolan Nangolan è stato chiuso da un ottimo provvidenziale intervento di Abate uno spiolente, ragazzi resta in porta, Balla lì, Barotelli, Barotelli, primo gol in campionato non poteva sbagliare neanche lui, arriva il 3-1 del Milan, la firma di Mario Barotelli